Allo, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto ad esplorare un parco e vi dirò di più. Alla fine darò una mia votazione come se fossimo in una puntata di... 4 ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un parco in sfida, 4 categorie da votare. Location, menu, servizio, conto. Ma non basta, col mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Sul canale di Pika Palindromo parte la sfida. Dopo mesi in cui ho lavorato 7 giorni su 7, finalmente ho avuto un paio di giorni di riposo e potevo stare a casa a dormire tutto il giorno, ma ovvio che no, sennò vi porto un video ogni 12 anni. Quindi il 24 aprile appena finito di lavorare, ho preso il treno, mi sono fatto portare a casa mia in Piemonte vicino a Pinerolo, sono andato a dormire la mattina del 25 aprile, mi sono svegliato e avevo la febbre, ovviamente. Ma mi son detto mi alzo lo stesso, quindi vado in bagno, mi faccio la barba, e mi sono tagliato con la lametta. Nonostante tutto convinco mio padre ad accompagnarmi, scendo e non avevo la macchina perché ce l'aveva mio fratello. Ma sarà forse bastato questo a farmi demordere? Ovviamente no, perché abbiamo preso il camper, quindi chi ha orecchie per intendere intenda tutti gli altri in camper, e siamo partiti per andare allo Zoom, che è un bioparco che si trova in provincia di Torino, che ha 9 abitati terrestri e 2 subacquei. Una location postmoderna è un menù abbastanza vasto di animali, che sembra soddisfare anche i palati più delicati. mi piace. Mi sono spaventato a morte. Ah, grazie, sei gentilissimo. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Ristoratori, andiamo a ispezionare la cucina. Voto 10. Mi piace. Gaia su Instagram mi ha scritto di venire a vedere il volo dei rapaci, e penso voglio vederlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che borghese c'è sempre ste sciarpe che si schiatta di caldo, non ne ho idea. I prossimi animali sono uccendi, ma non volano, sono i pinguini. a tutti i prossimi animali sono uccendi. ristoratori, è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Cominciamo da te, Samantha, che voto hai dato alla location di Zoom? non lo ricordo. Te lo ricordo io. 2. Ingannevole. E tu invece, Zanza86, che voto hai dato alla location di Zoom? 5 stelle. Da rifare. Questa è la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti su TripAdvisor. Ma attenzione a voi, manca ancora un voto che potrà confermare o ribaltare il risultato. Il mio. E il mio voto è qui, sotto la cloche. Qual è la voce che ti colpisce di più? Il cotto. Anche a me. 5 su 10. Un prezzo troppo alto per l'offerta del tuo ristorante. Questo era un piccolo riassunto della giornata che ho passato allo Zoom. Mi sono molto divertito. Finalmente sono uscito un po' di casa e non sono stato lì a editare tutto il santo giorno. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e scrivetemi in un commento se guardate 4 ristoranti. E se non lo fate, vengo a casa vostra. E vi meno. Io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno un video. E dal vostro pick up all'interno a pezzi di notizia mi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui in mia compagnia. Ciao! Ciao!